No contro, io vorrei Gad Lerner in onda 365 giorni all'anno insieme a Fabio Fazio perché più parlano più la gente vota Lega, quindi non è quello, non lo vedo molto, no ma figurati, lunga vita, anzi a reti unificate, Lerner, Fazio, Saviano e Santoro, dalle 7 della mattina a mezzanotte e la Lega arriva al 52%, che lo si faccia, ho solo chiesto quanto costa, posso? È una televisione pubblica, è pagato da tutti e ho solo detto che me lo ricordo quando avevo i calzoncini corti a fare programmi contro la Lega, ma va bene, ma va bene, va bene, io penso che gli italiani che abbiano votato il governo del cambiamento pensando a una RAI del cambiamento pensassero a qualche giovane, però l'amministratore delegato a cui, a cui, eh? non vedo l'ora che altri lo guardino perché io non lo guardo ovviamente, però in democrazia ognuno fa quello che vuole, non, cioè mi aspettavo qualcosa di più innovativo, mettiamola così.